Salve carissimi amici, tutto Biki, Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi vi parlo delle Black Cold Disney Icon Card, che fanno parte di una collection chiamata Disney Icon Collection. Che cosa sono? Come sono fatte? Che cosa ci significano in tutto questo? Partiamo da una semplice constatazione. Che cosa sono? Vi faccio vedere la variante che hanno fatto l'anno scorso per i manga. Sono card da collezione che raffigurano un personaggio, poi vedremo quali nello specifico, di una determinata serie, in questo caso Fullmetal Alchemist con il nostro protagonista Edward. Abbiamo uno dei simboli chiave del fumetto dorato su sfondo nero. Nel retro abbiamo una breve sinossi del manga e un'altra immagine a rappresentanza. E il numero di carta. Questa qui era la quinta di otto della Manga Icon Collection fondamentalmente. Io ho questa, ho quella di Berserk. Fondamentalmente ne ho un paio perché mi interessavano. Lo spessore è più o meno questo, più o meno un dito fondamentalmente. E la teca è della Ultra Pro. Se vogliamo come ulteriore informazione è dell'Ultra Pro. Quindi è anche un oggettino che tutto sommato è di pregio. L'Ultra Pro fa prodotti di alto profilo, di alto valore. Quindi, ok, questa è una Icon Card. Può essere interessante, può non essere interessante? Non lo so. Credo che dipenda principalmente dai gusti. È chiaro che l'intenzione di Panini è quella di invogliare la gente ad acquistarla. Soprattutto quando si parla di un prodotto, di qualcosa che ti piaccia particolarmente. E quindi eccoci qui a parlare delle Disney Icon Collection. Iniziativa che a partire da maggio per tutto il corso dell'anno fino a dicembre vedrà proporsi diversi personaggi. Uno al mese. Nell'ordine a maggio avremmo Topolino, a giugno Paperinica, a luglio Quicocqua, ad agosto Zia Paperone, a settembre Amelia, a ottobre Pippo, a novembre Minni e infine a dicembre il buon Paperino. Che cosa ne penso? È un'iniziativa rivolta principalmente ai collezionisti. A qualcuno che vorrebbe avere un oggettino particolare da collezione, da avere con sé nella propria libreria, magari ad esporre da qualche parte. Si tratta di oggettini ovviamente indirizzati e rivolti a chi questi personaggi li apprezza e gli piacciono particolarmente. Panini in passato ha già fatto questo tipo di iniziative due volte. Una prima volta un paio di anni fa nel 2021 con protagonisti personaggi Marvel. Ai tempi io mi lasciai sfuggire quella di Thor perché persi letteralmente il mese e sinceramente avessi dovuto spendere dei soldi, potenzialmente potrei ancora farlo, andare su Amazon ed acquistare la card del mio personaggio preferito Marvel fondamentalmente. Ma non ho voglia, non ho intenzione di spenderci quei soldi, quei 25-35 euro per quanto le vendono su eBay per queste card. Allora vi direte, vabbè, ti piace di più Fullmetal Alchemist di Thor? Non lo so, sinceramente, ma sicuramente quello che so è che questa l'ho pagata a zero. E adesso veniamo un po' al resto del fulcro di questa argomentazione, dove cercherò in un primo momento di essere un pochettino analitico quali sono le perplessità e le critiche, dopodiché vi dirò cosa farò io se farò qualcosa. E partiamo da l'analisi degli oggetti che abbiamo sotto mano. Sono delle card in un materiale anche abbastanza pesantino, quindi sono card di un certo peso, non sono disegni fondamentalmente. Fatte benino, tutto sommato, carine al vedersi. Dovremmo vedere come saranno poi effettivamente quelle Disney, perché a vederle sul topolino, e qui ce le ho sott'occhio, sono carine, sono abbastanza convincenti, sarà interessante vedere dietro l'eventuale sinossi, raffigurano, ma le state vedendo, le facce dei vari personaggi dorati, e poi di fianco c'è il personaggio. Sono abbastanza carine. Convincente al 100%? No. Non tutte, perlomeno. Quella di Amelia mi piace particolarmente, e anche quella di uno dei tre nipotini mi piace particolarmente, quella di Paperino è molto molto carina, quella di Pippo è carina. Su topolino e Paperinic sono un po' stranito, e anche su quella di Minnie. Però, per l'appunto, questo è quello che possiamo vedere. Sono oggettini da collezione, come dicevo, quindi non è che hanno un chissà che grande utilità, intendiamoci. Hanno però un costo. Un costo, o meglio, non hanno un costo perché sono in omaggio, ma per poterci arrivare ad averle, occorre fare un minimo di spesa, un minimo di 75 euro, di cui, specifichiamolo fin da subito, 45 di prodotti panini Disney. Ora, la prima cosa che ho visto da tanti, ma fin dalla prima edizione, quando le icon card Marvel costavano 100 euro, ma anche con poi l'iniziativa successiva manga, che aveva qualcosa di simile a questa, sempre 75 euro di spesa, la critica che è stata rivolta è che costano troppo. È subito stata la prima critica, non tutti possono permettersela, panini, non viene incontro al cliente. E quello che mi viene da dire è che, effettivamente, andando a vedere il regolamento dietro questa iniziativa, fondamentalmente, veniamo a sapere che il valore commerciale di questi oggetti dovrebbe aggirarsi sui 10 euro. 10 euro che, se lo danno in regalo, in realtà lo danno potendo sostenere la spesa. Di conseguenza, secondo me, non è così sbagliato pensare che 75 euro si coprano, uno, le spese di spedizioni che danno in omaggio, superati i 20 euro sul sito. Due, il valore dell'oggetto. Tre, la loro percentuale è un po' decurtata dal fatto che i fumetti li vendono sul loro sito e col 5% di sconto. Quindi ci sono un po' di calcoli da fare, probabilmente 75 euro, non dico che sia il minimo e che non ci stiano guadagnando, non sto dicendo questo. Sto dicendo che magari il guadagno che avrebbero, fondamentalmente, si aggira sui 15 euro, anziché sui 25, su un ordine di 75. Sto sparando cifre a caso, eh. Però, sicuramente si decurtano un po' il guadagno. Non sto dicendo che stiano facendo beneficenza. Ok? Ci stanno comunque guadagnando. È comunque un'iniziativa rivolta a, diciamo, incentivare l'acquisto per invogliare la gente da acquistare. Quindi, 75 euro potrebbe essere una cifra che hanno calcolato, giustamente, per non rimetterci. O comunque, avere comunque un loro ritorno economico. 75 euro di spesa che, attenzione, acquistando materiale DC, Marvel, ma anche Planet Manga, fondamentalmente, DC e Marvel, ci sono ormai volumi che costano 30 euro l'uno. Quindi, in realtà, non ci vuole troppissimo per raggiungere questi 75 euro. E anche con i manga, parliamo del doppio. Ok? Quindi, sei manga, ci siamo, una decina di manga, in realtà, se parliamo dei quelli che ormai sono economici, fondamentalmente. che ormai vengono sui 7, 7,50 euro. Non quelli super economici, ok? Però, cominciamo a prendere un'edizione deluxe di qualcosa, ci costa sui 12, 13, 15 euro. Ok? I cartonati, qui sotto mano, Accomen, le croniche di Atlantide, costava 37 euro di copertina. Ok? Ne compri due, siamo già a 74. Ok? Quindi, ci vuole relativamente poco. E per un lettore che acquista tanto materiale, è facilissimo arrivare a queste cifre. Anche se non ne acquista, in realtà, l'ho detto, neanche troppissimo, due cartonati basterebbero per raggiungere questa cifra. Più o meno. Più o meno. A volte, anche di più. E non sto citando gli omnibus che valgono 100 euro l'uno. Ok? Quindi, in realtà, la spesa in senso stretto è vero che sembra alta, ma sembra alta se pensiamo di dover acquistare l'oggetto. Oggetto che ricordo essere un gadget. È un gadget dato in omaggio. Quindi non è che noi compriamo il gadget. Noi compriamo dei fumetti e secondo me è questa la cosa che dobbiamo ricordarci e che tendiamo sempre a dimenticare. Noi, quando acquistiamo un fumetto, acquistiamo in primis un fumetto. Il gadget che ci invoglia all'acquisto, perché ci sono dei gadget che ci invogliano all'acquisto, sono un qualcosa di ulteriore, un qualcosa di accessorio. Ok? Quando ho comprato i cappellini di Quicocoa e di Zio Paperone di recente che sono qui dietro, non li vedete mai perché sono piccolissimi, ho speso 7,50 euro col topolino, ma c'era il topolino. Quindi quegli oggettini lì mi valgono 4 euro, perché più o meno è quella la differenza. Quindi secondo me andrebbe fatto tutto il discorso nell'altra ottica. Io sto acquistando dei fumetti che mi interessano e in più c'ho anche la card. C'ho anche la card. E questo qui è sicuramente un dato. Il secondo dato è chi non si può permettere 75 euro a fumetti fondamentalmente non può permettersi le card. E ve lo dico molto candidamente ci sta. Mi dispiace per chi non si possa permettere 75 euro di spesa mensili per i fumetti a prescindere da qual è la loro estrazione le loro possibilità economiche. Lo capisco. ci sono passato anch'io da essere ragazzo prima di avere un lavoro fondamentalmente che quello che avevo fondamentalmente lo spendevo per necessità fondamentalmente qualche fumetto in quella ma sicuramente non è che andavo a spendere tutto 75 euro soprattutto in una volta perché sono 75 euro di spesa in una singola tornata. In una singola tornata. Quindi ok lamentarsi che c'è chi non può permettersi 75 euro di spesa mi viene da dire probabilmente non è nei loro pensieri avere queste card e so che probabilmente sto dicendo qualcosa che per qualcuno potrebbe essere particolarmente critico ma in realtà è andato di fatto se io non posso permettermi certe determinate cose neanche ci penso quelle determinate cose o magari sì mi piacerebbero però no sto pensando in primis per dirne una sciocchezza però capiamoci una ferrari non mi posso permettere una ferrari non compro una ferrari ho la mia macchinina funziona fa quel che deve fare perfetto sono a posto così non ho bisogno di qualcosa d'altro non posso spendere 75 euro per questi fumetti compro quello che posso quando posso senza almeno da parte mia avere nessun giudizio critico o di qualche altro tipo fondamentalmente ognuno è il lettore che si può permettere di essere nella condizione in cui è in quel determinato momento magari sia in un momento di forte crisi economica come quella che stiamo vivendo e 75 euro non sono così facili anche per magari per una famiglia da spendere sull'unghia e altre si è vero che come dicevo sono 75 euro da spendere tutti quanti assieme ok quindi si potrebbe anche pensare di magari mi piace quel determinato personaggio non acquisto tutto oggi magari mi piace zio paperone mi piace zio paperone ad agosto da qui in avanti non compro in giro la roba aspetto ad accumularla ed acquistarla sul sito panino l'altra critica che ovviamente ho sentito muovere anzi l'altra considerazione che ho è sui 45 euro di prodotti specificatamente Disney che sono la base ed è una base un po' impegnativa perché dico questo? perché nelle occasioni antecedenti a questa la base non era 45 euro di prodotti marvel per avere la card di personaggio marvel era l'acquisto di un prodotto marvel 100 euro di spesa con l'acquisto di un prodotto marvel per le manga con card l'obbligo era un volume planet manga di conseguenza era anche facile almeno per me è stato facile acquistare e ottenere queste card perché cosa ho acquistato? un manga che mi interessava in questo determinato momento non so per dirvi quale nello specifico dovrei andare a rivedere nel dettaglio qual era l'ordine che ho fatto con questa card e un paio di volumi di sì che mi interessavano o forse c'era anche qualcosa di Disney comunque c'era un po' porri di roba ma era qualcosa di estremamente fattibile qua estremamente fattibile ovviamente avendo la possibilità di spendere 75 euro al mese per la card che magari interessa e anche solo per quella 45 di materiale Disney è tanto è vero che ci sono diversi volumi che hanno un costo bello sostanzioso ma io sto pensando a me come acquirente me come acquirente che le cose principali le cose che mi interessano li ho già quindi non è che ho una wishlist di materiale Disney chissà quanto infinita qualcosa c'è qualcosa c'è ma è chiaro che in primis dovrebbero cercare di supportare l'iniziativa producendo materiale interessante per almeno 45 euro al mese e andrei ad escludere in primis i mensili che sì ci sono ma non è che detto che siano sempre così particolarmente interessanti a meno che uno non sia completista di tutto il panorama disneyano quindi anche a voler provare a far conoscere il mondo Disney incentivandolo con l'acquisto di un gadget questa iniziativa con questa soglia di sbarramento così importante 45 euro che è più della metà dei 75 richiesti è più della metà è un adesso non sto a fare proporzioni strane ma sarà un 70% più o meno più o meno sicuramente più di un 50% perché su 80 sarebbe 40 non è 70 non è 80 è 75 ed è già qualcosina in più quindi un 55 60% parliamo di una percentuale importante però posso anche capire che magari quindi occhio bisogna che in questo periodo panini disney produciate roba interessante roba ma anche di quelle deluxe da edicola fondamentalmente ne produciate parecchia roba tra topolino extra gold le collection thriller humor che ci sia materiale costante almeno 3-4 di questa tipologia di volumi al mese se no a livello di novità chi ha già tutto sarebbe costretto un po' ad arrabbattarsi per eventualmente acquistarli o decidere semplicemente di non acquistarle fondamentalmente perché non c'è nessun obbligo ad acquistarle l'altra grande critica che è stata mossa è sulle fumetterie fumetterie che non sarebbero parte integrante di questa iniziativa che come al solito come nelle due edizioni antecedenti va a beneficio di panini come editore e distributore fondamentalmente perché sarebbe tutto in seno al sito panini da una parte mi viene da dire ok per una facilità di gestione è tutto interno è tutto automatizzato quindi riescono a gestirla sicuramente con più facilità dall'altro lato visto che ho letto spesso di gente che si lamentava di fumetterie che facevano le furbine con le variant rivendendole a prezzi esorbitanti dall'altro lato mi viene da pensare che avrebbero potuto fare la stessa identica cosa dove anzi magari non chiedevano ai clienti oltre di sopperire alle esigenze magari alzavano anche il tetto perché effettivamente io ho visto fumetterie vendere oggetti che dovevano essere gratuiti al free comic book day o al batman day quindi cose strane in fumetteria sono successe non tutte non sto dicendo che tutte devono pagare per quelle che hanno agito male però è chiaro che la cosa sicuramente potrebbe oltretutto 75 euro di spesa potrebbe a questo punto essere anche in realtà lato fumetteria essere diluita mensilmente avrebbe senso anche se anche lì fai fatica a dire ha speso 40 quella persona lì ha speso 45 euro in fumetti Disney gli do in omaggio questa cosa qui ha fatto solamente onore anche perché chi ha una fumetteria tendenzialmente ha una casella quindi magari ha roba che esce nel corso del mese quindi anche lì non è i 75 euro tutti di botto ma i 75 euro spalmati nel corso del mese spalmati nel corso del mese equivale a più spedizioni più spedizioni che hanno dei costi quindi non so capisco che sicuramente la cosa che viene subito in mente è panini ci vuole guadagnare è abbastanza ovvio che ci sia questo ritorno economico e altre se è vero che ripeto fondamentalmente 75 euro di materiale uno è facile raggiungerlo due se lo si fa di materiale che interessa la card diventa di fatto veramente un regalo veramente un omaggio quindi le card sono un regalo sono un omaggio 75 euro di spesa sono abbastanza affrontabili 45 euro di materiale disney in realtà risulta sempre un po' ostico però di roba interessante ce n'è a partire da qui alla mia sinistra potete vedere un po' di deluxe di dor rosa quelle costano 35 euro da sole quindi prendete quella è un topolino extra siete abbondantemente superi 45 ci sono le opere integrali sto vedendo che ce le ho là di altalia ferro e di freud godferson anche quelle costano 35 euro l'uno quindi non è così anche troppo complicato lato disney è chiaro che chi già le ha che dice che compra potrebbe comprare magari alcuni di quegli albi che sono rimasti un pochettino indietro un pochettino in sospeso chiaramente questo andrebbe contro le fumetterie e le edicole questo sicuramente non va ad incentivare il preordino in fumetteria il che è è sinceramente un problema e non va sicuramente a favorire le edicole e altre si vero che tantissima gente non acquista in fumetteria perché ce le ha lontane sono difficili da raggiungere non sempre fanno un servizio adeguato a quella che è l'esigenza del cliente a volte non riescono a trovare neanche fumetterie online che facciano servizi come vorrebbero loro lì magari sono clienti un po' pignoli però ci può stare e anche per quel che riguarda le edicole ormai trovare fumetti disney sta diventando complicato sta diventando difficile sta diventando difficile e anche la mia edicola di fiducia in questo momento su alcune cose sta un po' tentennando sto vedendo e ci vado perché sono affezionato a quel posto ci tengo in realtà in teoria ad acquistare da loro però effettivamente a volte non ci riesco e non ci riesco perché non arriva il materiale e a volte ho acquistato del materiale che è arrivato non messo benissimo perché magari era arrivata un'unica copia un'unica copia danneggiata non troppo comunque leggibile ma che comunque a volte fai anche fatica dopo dire già che me l'hai ordinato hai fatto fatica e tutto quanto non lo compro sarei un po' cattivello senza contare che effettivamente qualcosa non è mai arrivato io nella mia edicola non l'ho mai visto arrivare roba che magari io non acquisto regolarmente ok ma magari acquisterei una tantum anche di prodotti disneyani le ultime topolino extra non si sono fatte proprio vedere eppure tranne quella di natale quelle che ho conquistato le ho acquistate tutte lì le ho acquistate tutte lì mi chiamava Perinic l'ho dovuto acquistare da un'altra parte l'ho acquistata direttamente tramite ho visto cose è vero che è tutto materiale che potrei ordinare in fumetteria ma è materiale che in fumetteria per qualche accano motivo arriva molto dopo l'edicola che era il motivo per cui avevo cominciato ad acquistare tutti i volumi disney in edicola quindi boh da un lato l'altra cosa da considerare siamo sempre in un periodo in cui i prodotti fanno sempre più ritardi quindi anche se uno volesse acquistare solo il nuovo tra quello annunciato su anteprima quella roba uscirà effettivamente nel mese segnalato o slitterà per qualche motivo e quindi non si riuscirà ad ottenere la card correlata del personaggio che si vuole in uscita del mese perché non è uscito il materiale ma non per colpa dell'utente per colpa dell'editore quindi sono tutte piccole considerazioni che mi hanno portato un libro un video anche abbastanza lungo come sto vedendo che mi andava di fare con voi su questa collection che rappresenta di fatto come luce di fatto è un gadget fondamentalmente di ombre ne ha un po' ma è un gadget che vi dico la più sincera schiettetta la mia più sincera sincerità fondamentalmente a me intriga mi intriga perché sono personaggi che mi piacciono e avere qualcosa di così peculiare mi intriga mi farebbe piacere averle e di fatto che cosa ho guardato ho guardato che cosa esce di serie regolare disneyan in edicola quindi senza andare ad intaccare i preordini in fumetteria e di fatto ho notato quanto materiale dovrei avere in uscita senza contare che effettivamente mi sono pentito di aver fatto un po' di vendite varie eventuali nel corso degli ultimi mesi e qualcosina vorrei rirecuperare di quell'arretrato e di fatto io riesco a sostenere questa iniziativa almeno fino ad ottobre fondamentalmente e non sono andato oltre praticamente con le cose che mi escono e qualche arretrato sia disney che non disney quindi per quanto mi riguarda questa iniziativa la sosterrò perché mi piace il gadget che c'è dietro mi piace questa chicca fondamentalmente ma posso capire le varie criticità che ci sono e proprio in virtù di questo mi va di sentire la vostra nello spazio commenti vi lascio tutto lo spazio che volete per dirmi la vostra sia in positivo che in negativo di questa iniziativa vi piace non vi piace vi intriga non vi intriga pensate che faccia del male al mercato pensate che Panini faccia male a proporre questa iniziativa oppure pensate che semplicemente non vi interessa o che faccia del bene proporre questa iniziativa per provare a diffondere la cultura il verbo disneyano in una qualche maniera perché comunque si crea tantam mediatico quando ci sono questo tipo di iniziative e uno magari anche solo per sfizio acquista quel qualcosina che gli ricorda un po' magari il sapore del passato di quando leggeva Paperino per avere la carta di Paperini che magari scopre una nuova passione in più io ho una bella wish list di materiale di sì che mi sono messo lì da parte che prima o poi mi piacerebbe recuperare fondamentalmente e questa potrebbe essere l'occasione giusta senza andare a intaccare ripeto i preordini delle serie regolari in fumetteria per poter avere quei volumi per fare quei 30 euro fondamentalmente per arrivare a fare i 75 euro dopo i 45 disneyani anche se un crocio le dita e spero che sulla clausola dei 45 euro disneyani ci ripensino un attimo fondamentalmente perché effettivamente sarebbe anche un po' andare in controtendenza se nel passato era un volume marvel che magari uno dice vabbè mi interessa questo omnibus di sì ci aggiungo uno spillato 3 euro e di fatto ho speso di fatto il costo dell'omnibus per avere la roba fondamentalmente o viceversa stessa cosa vale per i manga dove magari uno sicuramente se li acquiste perché magari i manga li legge li segue gli piacciono quindi è anche incentivato ad acquistare dei manga e stessa cosa in teoria per disney magari uno acquista già materiali disney e magari uno due volumi li acquisterebbe anche ma 45 euro ripeto sono tanti perché è proprio difficile avere quel volume che costa così tanto ce ne sono per carità ripeto se non avete letto don rosa potrebbe essere effettivamente un modo per recuperarlo anche se sappiate che non sarà mai più ristampata completa visto gli ultimi eventi fondamentalmente successi diciamo che Don Rosa ha svelato un po' di cose che sono successe quindi di fatto il volume 4 e 5 non saranno praticamente mai il volume 4 se non ricordo male dell'omnia quella cartonata e l'ultimo si vedranno decurtate delle storie però il resto contiene delle belle storie che magari può valere la pena comunque andare a recuperare l'omnia di Floyd Godferson per me è sempre straconsigliata stessa cosa vale per l'omnia di Altaliaferro che è un'omnia parziale perché non sarà non è completa e non si sa se mai lo sarà però oltre tutto devo anche rimettermi a leggerla prima o poi così come magari potreste andare a recuperare qualche cosina delle collane quelle un pochettino più se non avete acquistato nulla le serie imperdibili sono comunque storie interessanti le collection con casti sono serie interessanti materiale Disney interessante c'è se si vuole andare a scoprire quindi se non avete mai acquistato Disney ma vi interessa per qualche motivo la collection magari spulciate il mio canale perché qualche consiglio potreste anche trovarlo in qua e là sugli albi quindi oppure nel caso possiamo anche parlarne nello spazio commenti quindi nello spazio commenti commentate tranquillamente questa iniziativa se vi piace se non vi piace cosa vi viene in mente fondamentalmente se vi piace se non vi piace se vi convince se non vi convince cosa c'è che vi convince cosa c'è che non vi convince quindi un po' continuiamo la discussione assieme dopo che vi ho detto la mia un poco più che fondamentalmente un pensi cioè dopo che io ho esposto un po' il mio parere abbastanza caldo perché comunque la cosa è uscita due giorni fa ci sto facendo un video quindi è ancora una reaction se vogliamo un po' a caldo anche se ci ho provato a ragionare sopra ho fatto i miei calcoli effettivamente per vedere se era fattibile questa iniziativa col materiale di prossima uscita e qualche recupero di cose che mi ero tenuto da parte per qualche occasione particolare quindi continuiamo la discussione insieme se vi va e niente da Francesco dalla soffitta di camera mi è davvero tutto e noi ci vediamo in una prossima video opinione del canale ciao